Lezione 1. Conoscersi. Ciao Anna, è un piacere conoscerti. Dove vivi? Ciao John. Vivo in una piccola città vicino alla costa. Che ne dici di te? Sembra adorabile. Vivo nel cuore della città. Oh, ho sempre voluto provare la vita di città. Cosa ti piace di più del vivere lì? Beh, ci sono così tante cose da fare e da vedere. Adoro l'atmosfera vivace e la comodità di avere tutto a portata di mano. Sembra eccitante. Ci sono monumenti o attrazioni famose vicino a casa tua? Sicuramente. Abbiamo un bellissimo parco con una vista mozzafiato sullo skyline. C'è anche un famoso museo a pochi isolati di distanza. Wow, è incredibile. Mi piace visitare i musei. Che tipo di mostre ha? Presenta una vasta gamma di opere d'arte, dai dipinti classici alle sculture moderne. È un ottimo posto per immergersi nella cultura. Sembra affascinante. Mi assicurerò di visitarlo se ne avrò la possibilità. A proposito, c'è una spiaggia vicino alla tua città? Sì, c'è. Si trova a circa 30 minuti di auto dalla città. La spiaggia è nota per la sua sabbia dorata e le acque cristalline. Sembra il posto perfetto per rilassarsi e distendersi. Adoro passare il tempo e riva al mare. Lo è davvero. La spiaggia è una destinazione popolare, soprattutto durante i mesi estivi. Posso immaginarlo. Deve essere bello avere il meglio dei due mondi, la città e la spiaggia, a portata di mano. Assolutamente. Vivere qui mi permette di godermi sia la vita urbana che la tranquillità della natura. È meraviglioso, John. È stato fantastico sapere di più su dove vivi. Allo stesso modo, Anna. Non vedo l'ora di saperne di più su di te e sulle tue esperienze. Grazie, John. Anch'io sono entusiasta di condividere di più con te. Ottimo. Continuiamo la nostra conversazione nella prossima lezione. Sicuramente, John. Ci vediamo allora. A presto, Anna. Lezione 2. Come raggiungere l'ufficio postale più vicino. Ciao. Certo, posso aiutarti in questo. È a pochi isolati da qui. È fantastico. Potresti darmi qualche indicazione su come arrivarci? Certo. Per prima cosa, devi percorrere questa strada fino a raggiungere il semaforo. Ok, ho capito. Allora cosa devo fare? Al semaforo, girare a sinistra e camminare per circa due minuti. Va bene, svolterò a sinistra e proseguirò per due minuti. Cosa c'è dopo? Dopo due minuti, vedrai un piccolo parco sulla tua destra. Un parco sulla destra. Capito. Cosa devo fare quando arrivo al parco? Una volta raggiunto il parco, svolta a destra e continua a camminare finché non vedi un grande edificio giallo. Ok, svolta a destra nel parco e cerca un grande edificio giallo. Allora cosa? Quando vedi l'edificio giallo, l'ufficio postale si trova proprio accanto ad esso sul lato sinistro. Perfetto. Troverò l'ufficio postale vicino al grande edificio giallo. Grazie per le indicazioni. Siete i benvenuti. C'è altro per cui hai bisogno di aiuto? In realtà sì. Ci sono luoghi di interesse vicino all'ufficio postale a cui dovrei prestare attenzione? Sì, c'è un famoso caffè proprio dall'altra parte della strada rispetto all'ufficio postale. È difficile non vederlo. Ottimo. Terrò d'occhio la caffetteria. Grazie ancora per il tuo aiuto. Non è affatto un problema. Sono lieto di poterti aiutare. Vi auguro una buona giornata. Anche tu, Anna. Prenditi cura di te e ci vediamo in giro. Lezione 3. Negoziare un aumento di stipendio Ehi Anna, volevo parlarti di qualcosa di importante. È un buon momento? Ciao, John. Ovviamente. Ho tutte le orecchie. Cosa ti passa per la testa? Beh, lavoro qui da parecchio tempo e credo di aver dato un contributo significativo all'azienda. Mi chiedevo se potessimo discutere di un aumento di stipendio. Apprezzo la tua dedizione, John. Parliamone. Che tipo di aumento stai cercando? Ho svolto alcune ricerche e ho scoperto che lo stipendio medio per la mia posizione nel settore è superiore a quello che guadagno attualmente. Speravo in un aumento in linea con gli standard di mercato. Capisco il tuo punto di vista, John. Permettetemi di discuterne con i superiori e vedere cosa possiamo fare. Puoi darmi un po' di tempo per raccogliere le informazioni necessarie? Certo, capisco che queste cose richiedano tempo. Apprezzo la tua disponibilità ad approfondire la questione. Grazie per la pazienza, John. Nel frattempo, potresti fornirmi un elenco dei tuoi risultati recenti o di progetti specifici che evidenziano il tuo valore per l'azienda? Assolutamente. Preparerò un elenco completo dei miei successi e ve lo inoltrerò entro la fine della giornata. Sarebbe fantastico, John. Mi aiuterà a presentare una valida argomentazione a vostro nome. C'è altro che vorresti aggiungere? Solo che mi piace davvero lavorare qui e credo che un aumento di stipendio mi motiverebbe ulteriormente a continuare a dare il massimo per l'azienda. Apprezzo la tua dedizione, John. Il tuo impegno nel tuo lavoro non passa inosservato. Farò del mio meglio per difenderti. Grazie, Anna. Apprezzo davvero il tuo supporto e la tua comprensione. Benvenuto, John. Contatteremo presto la base per discutere del risultato. Ti auguro una giornata produttiva. Grazie, Anna. Attendo con ansia la nostra prossima conversazione. Abbi cura di te. Lezione 4. Esplorazione delle opzioni di scarpe Ehi, Anna. Ho bisogno di scarpe nuove. Hai una vasta scelta di scarpe con tacco e scarpe basse? Ciao, John. Assolutamente. Offriamo una varietà di opzioni di calzature per soddisfare diversi stili e preferenze. Che tipo di scarpe stai cercando? Sto cercando un paio di scarpe basse comode da indossare tutti i giorni e un paio di tacchi eleganti per le occasioni speciali. Puoi consigliarmi qualcosa? Certo. Per quanto riguarda le scarpe basse, abbiamo una vasta gamma di opzioni, dalle classiche ballerine e mocassini alla moda. Sono progettati per offrire comfort e stile. Sembra perfetto. Preferisco qualcosa di versatile che posso indossare con abiti diversi. Quali colori sono disponibili? Abbiamo colori neutri come il nero, il beige e il blu marino, che possono essere facilmente abbinati a varie scelte di abbigliamento. Abbiamo anche alcune opzioni divertenti e vivaci se stai cercando di fare una dichiarazione. Ottimo. Darò sicuramente un'occhiata ai colori neutri. Ora, che mi dici dei tacchi? Ci sono stili o design specifici attualmente popolari? Assolutamente. I tacchi larghi e i tacchi da gattino sono molto popolari in questo momento. Offrono un equilibrio tra comfort ed eleganza. Abbiamo anche decoltè a punta e sandali con cinturino per un look più formale. Mi piace l'idea dei tacchi alti per una sensazione più stabile e confortevole. Hai qualche consiglio su colori o motivi per i tacchi? I tacchi nudi o neri sono sempre una scelta sicura in quanto possono essere abbinati a vari outfit. Tuttavia, abbiamo anche colori e motivi vivaci se stai cercando di aggiungere un tocco di personalità al tuo ensemble. Lo terrò a mente. Grazie per i suggerimenti, Anna. Sono entusiasta di esplorare le opzioni di scarpe. Avete promozioni o sconti in corso? Sì, al momento abbiamo una promozione in cui puoi ottenere uno sconto sul tuo secondo paio di scarpe. Posso fornirti maggiori dettagli quando visiti il negozio. È fantastico. Mi assicurerò di visitarlo presto e di approfittare della promozione. Grazie per l'aiuto, Anna. Benvenuto, John. Sono qui per aiutarti. Se hai altre domande, non esitare a chiedere. Buon acquisto di scarpe. Grazie, Anna. Grazie per la tua assistenza. Ci vediamo presto. Abbi cura di te. Lezione 5. Pianificazione dello studio all'estero. Ciao, Anna. Stavo pensando ai miei piani futuri e ho deciso che voglio studiare all'estero l'anno prossimo. Ciao, John. Sembra eccitante. Studiare all'estero può essere una grande opportunità di crescita personale e accademica. Quale paese stai considerando? Sto considerando gli Stati Uniti o il Regno Unito. Hanno università rinomate e offrono programmi in linea con i miei interessi. Sono ottime opzioni, John. Hai pensato a quali università specifiche vorresti candidarti? Sì, ho fatto delle ricerche e ho un elenco di università che mi interessano. Dovrò iniziare presto la procedura di candidatura. Questo è un buon piano. Assicurati di controllare i requisiti e le scadenze di ammissione per ogni università. È importante rimanere organizzati durante tutto il processo di candidatura. Assolutamente, Anna. Creerò una lista di controllo e terrò traccia di tutti i documenti e le scadenze necessari. Voglio garantire un processo di candidatura senza intoppi. È un approccio proattivo, John. Inoltre, valuta la possibilità di contattare le università per qualsiasi informazione o guida aggiuntiva di cui potresti aver bisogno. Questo è un buon punto. Mi impegno a contattare le università e chiedere informazioni su eventuali requisiti specifici o borse di studio disponibili. Le borse di studio possono essere di grande aiuto, John. Molte università offrono borse di studio per studenti internazionali. Vale la pena esplorare le tue opzioni. Sono d'accordo, Anna. Le borse di studio allevirebbero sicuramente alcuni oneri finanziari. Farò delle ricerche e vedrò a quali borse di studio potrei avere diritto. È una decisione saggia, John. Inoltre, non dimenticate di considerare fattori come il costo della vita, le differenze culturali e i servizi di supporto offerti agli studenti internazionali. Hai ragione, Anna. Adattarsi a un nuovo ambiente può avere delle sfide. Mi assicurerò di raccogliere quante più informazioni possibili per prepararmi. Questo è lo spirito, John. Cogli le opportunità e le sfide che lo studio all'estero comporterà. Sarà un'esperienza trasformativa per te. Sono entusiasta delle possibilità, Anna. Credo che studiare all'estero amplierà i miei orizzonti e mi fornirà esperienze e conoscenze preziose. Su questo non ho dubbi, John. Mantieni la concentrazione, lavora sodo sulle tue candidature e sono sicuro che avrai un viaggio di studio all'estero di successo. Grazie per il tuo sostegno e incoraggiamento, Anna. Ti terrò aggiornato sui miei progressi e sulle mie decisioni. Significa molto per me. Benvenuto, John. Sarò qui per supportarti in ogni fase del percorso. Buona fortuna con i preparativi, e non vedo l'ora di conoscere le tue avventure future. Grazie Anna. Lo apprezzo. Ti parlerò presto. Abbi cura di te. Lezione 6. Trovare la giusta durata di studio Ciao Anna. Sto cercando di stabilire una routine di studio, ma non sono sicuro per quanto tempo dovrei studiare per ogni sessione. Qualche suggerimento? Salve John. Trovare la giusta durata dello studio dipende dalle preferenze personali, e dal livello di concentrazione. Consiglierei di iniziare con 10-15 minuti e vedere cosa ritieni giusto per te. Sembra ragionevole. Non voglio esagerare, ma voglio anche assicurarmi di studiare abbastanza per fare progressi. Devo aumentare la durata gradualmente? Assolutamente, John. Aumentare gradualmente la durata dello studio è un buon approccio. Puoi aggiungere qualche minuto a ciascuna sessione man mano che ti senti più a tuo agio e concentrato. Questo ha senso. È importante trovare un equilibrio tra produttività ed evitare il burnout. Quali sono alcuni segnali che indicano che dovrei fare una pausa durante le mie sessioni di studio? Se ti accorgi che la tua mente vaga, ti senti mentalmente esausto o stai riscontrando una diminuzione della produttività, questi sono segnali che potresti aver bisogno di fare una breve pausa. Ascolta il tuo corpo e la tua mente. Fare delle pause per ricaricarsi sembra una buona idea. Quali attività consigliate durante queste pause per renderle efficaci? Durante le pause, è utile dedicarsi ad attività che rilassano e rinfrescano la mente. Puoi fare stretching, fare una breve passeggiata, ascoltare musica o persino fare un rapido esercizio di consapevolezza. Mi piace l'idea di incorporare la consapevolezza nelle mie pause. Può aiutarmi a concentrarmi e ridurre lo stress. Ci sono tecniche specifiche di consapevolezza che puoi suggerire? Sicuramente, John. Esercizi di respirazione profonda, meditazione o semplicemente concentrarsi sul momento presente possono essere efficaci tecniche di consapevolezza. Puoi trovare esercizi guidati online o utilizzare app mobili. Esplorerò queste tecniche e vedrò quali funzionano meglio per me. Ora, devo avere un orario di studio fisso o posso essere flessibile con le mie sessioni di studio? Dipende dal tuo stile di vita e dai tuoi impegni, John. Avere un programma di studio fisso può fornire struttura e coerenza. Tuttavia, essere flessibili consente di adattarsi a eventi imprevisti o cambiamenti di priorità. Vedo i vantaggi di entrambi gli approcci. Forse una combinazione di un orario flessibile con fasce orarie di studio designate potrebbe funzionare per me. Cosa ne pensi? Sembra un buon piano, John. Ti offre la flessibilità di cui hai bisogno, assicurandoti allo stesso tempo di dedicare del tempo dedicato allo studio. Ricordati di trovare ciò che funziona meglio per te e di adattarlo secondo necessità. Grazie per il consiglio, Anna. Ora mi sento più sicuro nello stabilire una routine di studio adatta alle mie esigenze. Inizierò con sessioni più brevi e aumenterò gradualmente la durata. Benvenuto, John. Sono lieto di esserti stato utile. Ricorda che trovare la giusta durata di studio è un viaggio personale, e potrebbe richiedere alcuni tentativi ed errori. Rimani motivato e goditi il processo. Lo farò, Anna. Ti ringrazio per il tuo sostegno. Ti farò sapere come procede la mia routine di studio. Ti auguro una buona giornata. Lezione 7. Prepararsi per un viaggio emozionante. Ciao Anna, ho delle notizie interessanti. Mi sto preparando per un viaggio. È la prima volta che viaggi? Ciao John, è meraviglioso. Viaggiare è sempre un'avventura. No, non è la mia prima volta. Ho avuto la fortuna di visitare diversi paesi in passato. Impressionante, Anna. Non vedo l'ora di conoscere nuove culture ed esplorare nuovi posti. Qualche consiglio per chi viaggia per la prima volta come me? Assolutamente, John. Innanzitutto, assicurati di avere tutti i documenti di viaggio necessari, come passaporto e visto. È essenziale averli in ordine prima di partire. Li ho già spuntati dalla mia lista. Che ne dici dell'imballaggio? Qualche suggerimento su cosa devo portare? Quando si tratta di fare le valigie, è utile fare un elenco di elementi essenziali come vestiti, articoli da toilette e qualsiasi articolo specifico di cui avrai bisogno per il viaggio. Fai le valigie leggere e considera le condizioni meteorologiche della tua destinazione. L'imballaggio leggero è una buona idea. Non voglio essere gravato da bagagli pesanti. Ci sono accessori da viaggio indispensabili che dovrei prendere in considerazione? Alcuni accessori da viaggio che possono tornare utili sono un adattatore da viaggio, un caricabatterie portatile, un cuscino per il collo e una bottiglia d'acqua riutilizzabile. Possono rendere il tuo viaggio più confortevole. Mi assicurerò di includerli nei miei elementi essenziali per il viaggio. La sicurezza è una preoccupazione anche per me. Quali precauzioni devo prendere durante il viaggio? La sicurezza dovrebbe essere sempre una priorità, John. Fai attenzione a ciò che ti circonda, proteggi i tuoi effetti personali, ed evita di esporre oggetti di valore. Fai delle ricerche sulle usanze locali e anche su eventuali truffe. Lo terrò sicuramente a mente. È importante essere consapevoli e rispettosi della cultura locale. A proposito, qualche consiglio su come interagire con la gente del posto? Interagire con la gente del posto può migliorare la tua esperienza di viaggio, John. Impara alcune frasi di base nella lingua locale, si gentile e mostra sincero interesse per la loro cultura. Può portare a connessioni significative. Imparare qualche frase è un'ottima idea. Dimostra rispetto e può aiutarmi a navigare meglio. Sono anche entusiasta di provare nuovi cibi. Qualche consiglio? Provare la cucina locale è uno dei momenti salienti del viaggio, John. Siate aperti a nuovi sapori e piatti. Chiedi consigli alla gente del posto o esplora i famosi mercati alimentari e ristoranti. Sarò sicuramente avventuroso con le mie scelte alimentari. Infine, qualche consiglio generale o lezione appresa dai tuoi viaggi precedenti? Una lezione importante che ho imparato è essere flessibili e accettare situazioni inaspettate. Viaggiare a volte può comportare cambiamenti imprevisti, ed è essenziale adattarsi e sfruttarli al meglio. La flessibilità è fondamentale, capito? Ora mi sento più preparata ed entusiasta per il mio prossimo viaggio, grazie alla tua guida, Anna. Benvenuto, John. Sono lieto di esserti stato utile. Ti auguro un viaggio incredibile pieno di esperienze memorabili. Goditi ogni momento. Grazie, Anna. Lo apprezzo davvero. Mi assicurerò di condividere con te i miei racconti di viaggio quando tornerò. Abbi cura di te. Lezione 8. Fare la spesa salutare. Ciao, Anna. Vado a fare la spesa. Potresti prendere anche della frutta e della verdura fresca? Ciao, John. Certo. Mi assicurerò di raccogliere una varietà di frutta e verdura colorate per una selezione salutare. Sembra fantastico, Anna. Sto cercando di incorporare cibi più nutrienti nella mia dieta. Qualche tipo di frutta e verdura in particolare mi consigliate? Assolutamente, John. Alcuni frutti ricchi di nutrienti includono bacche, arance e mele. Per le verdure, le verdure a foglia verde come spinaci, broccoli e peperoni colorati sono scelte eccellenti. Eccellente, Anna. Li aggiungerò alla mia lista. Che dire dei prodotti biologici? Vale la pena prenderlo in considerazione? I prodotti biologici possono essere una buona opzione se preferisci evitare i pesticidi, John. Tuttavia, è importante notare che frutta e verdura sia biologiche che coltivate convenzionalmente possono far parte di una dieta sana. Capisco, Anna. Lo terrò a mente e prenderò una decisione in base alla disponibilità e alle preferenze personali. Ci sono altri prodotti alimentari salutari che dovrei aggiungere alla mia lista della spesa? Sì, John. Non dimenticare di includere cereali integrali come riso integrale, pane integrale e quinoa. Inoltre, considera l'aggiunta di proteine magre come pollo, pesce o tofu. Capito, Anna. Cereali integrali e proteine magre mi aiuteranno sicuramente a creare pasti equilibrati. Che mi dici degli snack? Qualche opzione salutare per gli spuntini? Assolutamente, John. Invece di cercare spuntini non salutari, prendi in considerazione opzioni come noci, semi, yogurt o persino barrette energetiche fatte in casa. Forniscono un buon equilibrio di nutrienti. Sono ottimi consigli per uno spuntino, Anna. Mi assicurerò di farne scorta. A proposito di scorte, qualche consiglio per conservare frutta e verdura per mantenerle fresche più a lungo? Sì, John. È importante conservare correttamente frutta e verdura per mantenerne la freschezza. Alcune linee guida generali includono conservarli in frigorifero, separati l'uno dall'altro ed evitare l'umidità in eccesso. Organizzerò il mio frigorifero di conseguenza per garantire le migliori condizioni di conservazione. È importante ridurre al minimo gli sprechi alimentari. A proposito, qualche consiglio sulla lettura delle etichette degli alimenti? Leggere le etichette degli alimenti può essere utile, John. Cerca le informazioni nutrizionali, le dimensioni delle porzioni e gli elenchi degli ingredienti. Presta attenzione agli zuccheri aggiunti, ai livelli di sodio e al valore nutrizionale complessivo. Sono informazioni preziose, Anna. Mi prenderò del tempo per leggere e capire meglio le etichette degli alimenti. Mi aiuterà a fare scelte più salutari. Grazie per la tua guida. Benvenuto, John. Sono lieto di esserti stato utile. Ricorda che apportare piccoli cambiamenti alle tue abitudini di spesa può avere un grande impatto sulla tua salute generale. Goditi i tuoi acquisti nutrienti. Lo farò, Anna. Sono entusiasta di fare scelte più salutari e creare pasti deliziosi. Ti farò sapere come va. Abbi cura di te. Lezione 9. Esprimere gratitudine per un regalo di compleanno. Ciao Anna. Volevo solo ringraziarti per il tuo regalo di compleanno. È stato così premuroso da parte tua. Ciao John. Benvenuto. Sono contenta che ti sia piaciuto. Volevo regalarti qualcosa di speciale. Beh, ci sei sicuramente riuscita, Anna. È stato un regalo così premuroso e significativo. Sono felice di sentirlo, John. I compleanni sono un momento per festeggiare e mostrare apprezzamento. Assolutamente, Anna. Il tuo regalo ha reso il mio compleanno ancora più speciale e memorabile. Sono felice di aver potuto contribuire al tuo giorno speciale, John. I compleanni dovrebbero essere pieni di gioia e felicità. La tua gentilezza e generosità mi hanno toccato il cuore, Anna. Significa molto per me. Volevo assicurarmi che ti sentissi amato e apprezzato il giorno del tuo compleanno, John. Te lo meriti. Grazie per aver fatto di tutto, Anna. Il tuo regalo mi ha fatto sentire davvero speciale. È stato un piacere, John. I compleanni sono un'opportunità per dimostrare alle persone a cui temiamo quanto siano importanti per noi. Beh, sei sicuramente riuscita a farmi sentire apprezzata e amata, Anna. Grazie ancora. Benvenuto, John. È importante circondarci di persone che ci diano gioia e ci facciano sentire amati. Hai assolutamente ragione, Anna. Sono grato di averti nella mia vita. La tua amicizia è di per sé un dono. Il sentimento è reciproco, John. Sono grato anche per la nostra amicizia. I compleanni sono un momento per festeggiare le persone a cui teniamo. I compleanni sono davvero un momento di festa e riflessione, Anna. Il tuo regalo mi ha ricordato l'importanza di connessioni significative. Sono contenta che il mio regalo abbia avuto un tale impatto, John. È importante mostrare apprezzamento per le persone che portano felicità nella nostra vita. Assolutamente, Anna. La tua premura e generosità hanno reso il mio compleanno ancora più speciale. Ti sono davvero grata. Sono felice di aver potuto rendere il tuo compleanno un po' più brillante, John. È importante celebrare traguardi e creare ricordi duraturi. Ci sei sicuramente riuscita, Anna. Il tuo regalo mi ricorderà sempre la meravigliosa amicizia che condividiamo. Mi scalda il cuore, John. I compleanni sono un'occasione per esprimere gratitudine e celebrare le persone che migliorano la nostra vita. Beh, hai sicuramente migliorato la mia giornata, Anna. Grazie ancora per il tuo sentito regalo. Benvenuto, John. I compleanni sono un momento per dimostrare apprezzamento e sono grata per l'opportunità di farlo. La tua gentilezza e premura significano moltissimo per me, Anna. Grazie per essere un'amica così straordinaria. Il sentimento è reciproco, John. I compleanni sono un momento per riflettere sulle benedizioni della nostra vita e tu sei sicuramente una delle mie. Grazie per la tua amicizia e per aver reso il mio compleanno ancora più speciale, Anna. Ti sono davvero grata. È stato un piacere, John. I compleanni sono un momento per festeggiare le persone a cui teniamo, e vale sicuramente la pena festeggiare per te. Le tue parole mi toccano il cuore, Anna. Grazie ancora per il tuo incredibile regalo e per essere un'amica meravigliosa. Lezione 10. Acquisti di articoli essenziali per bambini. Ciao, Anna. Ho sentito la buona notizia. Congratulazioni per la gravidanza. È fantastico. Ciao, John. Grazie mille. Siamo davvero entusiasti dell'arrivo del nostro piccolo. Posso immaginarlo. È un viaggio fantastico. Hai bisogno di aiuto per acquistare articoli essenziali per bambini? Sarebbe meraviglioso, John. Sto ancora cercando di capire di cosa avremo bisogno. Qualche suggerimento? Assolutamente. Cominciamo con le basi. Avrai bisogno di pannolini, vestiti per bambini e una culla. Pannolini e vestiti sono un must, ovviamente. Che mi dici della culla? Qualche consiglio su dove acquistarne uno? Puoi dare un'occhiata ai negozi per bambini o anche cercare online un'ampia selezione di culle. Assicurati solo di leggere le recensioni prima di effettuare un acquisto. Ottima osservazione, John. Farò qualche ricerca e confronterò prezzi e recensioni. Cos'altro devo prendere in considerazione? Un altro elemento essenziale è un passeggino. Ti tornerà utile quando vorrai portare il bambino a fare una passeggiata o fare delle commissioni. Un passeggino sembra pratico. Lo aggiungerò alla mia lista. Qualcos'altro che mi consigliate? Un seggiolino auto è fondamentale per garantire la sicurezza del bambino durante i viaggi in auto. È importante scegliere la taglia giusta e installarla correttamente. La sicurezza è la nostra massima priorità, quindi esaminerò sicuramente i seggiolini auto. Grazie per avermelo ricordato, John. Benvenuta, Anna. Inoltre, potresti prendere in considerazione biberon, un tiralatte e prodotti per l'allattamento se hai intenzione di allattare. Questo è un buon punto. Mi assicurerò di averli a portata di mano. C'è altro a cui dovrei pensare? Non dimenticare gli articoli per l'igiene dei bambini come shampoo per bambini, lozioni e detersivi per bucato delicati per i loro vestiti. Bene, dovrò fare scorta anche di quegli elementi essenziali. Grazie per l'aiuto, John. Mi sento più preparato adesso. Sono lieto di poterti aiutare, Anna. Ricorda che non c'è fretta di avere tutto in una volta. Puoi accumulare gradualmente le provviste per il tuo bambino. Questo è vero. Lo farò passo dopo passo. Grazie ancora, John. Il tuo consiglio è stato prezioso. Nessun problema, Anna. Sono qui per aiutare. Se hai altre domande o hai bisogno di ulteriore assistenza, non esitare a chiedere. Lo apprezzo, John. Lo contatterò sicuramente se avrò bisogno di altre indicazioni. Abbi cura di te. Anche tu, Anna. Goditi questo momento speciale e prenditi cura di te e del bambino. Congratulazioni ancora una volta. Lezione 11. Ricerche di mercato e credibilità. Ciao, Anna. Volevo parlare di qualcosa con te. Posso sollevare l'argomento delle ricerche di mercato? Ciao, John. Certo. La ricerca di mercato è un aspetto importante del business. Cosa hai in mente? Penso che condurre ricerche di mercato per il nostro nuovo prodotto sarebbe utile. Ci aiuta a raccogliere informazioni preziose dai potenziali clienti. Sicuramente. Le ricerche di mercato ci forniscono informazioni basate sui dati, che aggiungono credibilità alle nostre decisioni e strategie. È esattamente quello che avevo in mente. Comprendendo le esigenze e le preferenze del nostro mercato di riferimento, possiamo personalizzare il nostro prodotto per soddisfare le loro aspettative. Assolutamente. Ci consente di identificare le tendenze del mercato, analizzare i concorrenti e prendere decisioni aziendali informate. Precisamente. Con una approfondita ricerca di mercato, possiamo valutare la domanda del nostro prodotto e determinare le strategie di marketing più efficaci. Inoltre, ci aiuta a mitigare i rischi identificando potenziali ostacoli e sfide sul mercato. Giusto. Conducendo sondaggi, interviste e analizzando i dati, possiamo ottenere informazioni preziose e prendere decisioni basate su prove. Inoltre, le ricerche di mercato ci forniscono un vantaggio competitivo. Ci aiuta a rimanere all'avanguardia, e ad adattarci alle mutevoli esigenze dei clienti. Assolutamente. È essenziale rimanere aggiornati sulle tendenze del mercato e sul comportamento dei consumatori per rimanere competitivi nel settore. Sono completamente d'accordo. Avere ricerche di mercato affidabili rafforza la credibilità della nostra azienda e crea fiducia con le parti interessate. Questo è un punto cruciale. Quando presentiamo i nostri risultati e le nostre strategie supportate da solide ricerche di mercato, rafforza la nostra credibilità e sostiene i nostri obiettivi aziendali. Sicuramente. È importante comunicare efficacemente i risultati delle nostre ricerche di mercato agli stakeholder interni ed esterni. Assolutamente. Condividendo i risultati delle nostre ricerche, possiamo allineare i nostri team, ottenere supporto e promuovere una comprensione condivisa dei nostri obiettivi aziendali. Questo è vero. La ricerca di mercato è un processo continuo. È importante aggiornare regolarmente i nostri dati e adattare di conseguenza le nostre strategie. Hai assolutamente ragione. Le dinamiche di mercato cambiano e rimanere in sintonia con tali cambiamenti attraverso una ricerca continua è la chiave del nostro successo. Concordato. Assicuriamoci di destinare risorse e tempo a ricerche di mercato complete per prendere decisioni informate e far progredire la nostra attività. Assolutamente, Anna. Diamo priorità alle ricerche di mercato come parte fondamentale della nostra strategia aziendale. Senza dubbio contribuirà al nostro successo a lungo termine. Non potrei essere più d'accordo, John. Adottando le ricerche di mercato, possiamo prendere decisioni corrette, ottenere un vantaggio competitivo e costruire un marchio rispettabile. Ben detto, Anna. Iniziamo il nostro percorso di ricerca di mercato e sblocchiamo nuove opportunità per la nostra attività. Sono entusiasta di intraprendere questo viaggio con te, John. Facciamo prosperare la nostra attività attraverso decisioni ben informate e strategie credibili. Anzi, Anna. Insieme, raccoglieremo informazioni preziose e guideremo la nostra attività verso la crescita e il successo. Lezione 12. Parchi nazionali e paesaggi incredibili Ciao Anna, hai mai visitato dei parchi nazionali? Di solito hanno paesaggi meravigliosi. Ciao, John. Sì, ho avuto la fortuna di visitare alcuni parchi nazionali. Lo scenario mozzafiato. Meraviglioso, Anna. In quali parchi nazionali sei stato? Sono stato allo Yosemite National Park, al Grand Canyon National Park e al Yellowstone National Park. Wow, sono scelte incredibili. Ogni parco offre paesaggi unici e mozzafiato. Assolutamente, John. Le imponenti cascate, e le scogliere di granito dello Yosemite sono uno spettacolo da non perdere. Ho sempre voluto visitare Yosemite. È nella mia lista dei desideri di viaggio. Dovresti assolutamente andare, John. Vale la pena provare in prima persona la bellezza della Yosemite Valley. Mi assicurerò di pianificare presto un viaggio lì. Che mi dici del Grand Canyon? Com'è stata la tua esperienza? Il Grand Canyon è impressionante, John. La vastità e la profondità del canyon sono davvero notevoli. Posso solo immaginarlo. Deve essere una sensazione incredibile stare al limite e assistere a una tale meraviglia naturale. È un'esperienza umiliante, davvero. Gli strati di rocce colorate e il fiume Colorado che attraversa il canyon sono indimenticabili. Aggiungo subito il Grand Canyon alla mia lista di viaggi. Ci sono altri parchi nazionali che mi consigliate? Il Parco Nazionale di Yellowstone è un'altra tappa obbligata, John. I suoi geyser, le sorgenti termali, e la variegata fauna selvatica lo rendono davvero eccezionale. Yellowstone sembra affascinante. Ho visto delle foto del famoso geyser Old Faithful in eruzione. È uno spettacolo straordinario, John. Le caratteristiche geotermiche di Yellowstone sono diverse da qualsiasi altra cosa. Sicuramente mi assicurerò di visitare Yellowstone e vedere di persona i geyser. Grazie per il consiglio, Anna. Benvenuto, John. Esplorare i parchi nazionali è un'ottima idea per gli amanti della natura e dell'avventura come noi. Assolutamente. L'opportunità di immergerci nella bellezza della natura e assistere a questi straordinari paesaggi non ha prezzo. È un'occasione per staccare la spina dalla nostra vita frenetica e apprezzare le meraviglie del mondo naturale. È vero, Anna. La natura ha un modo per ringiovanire il nostro spirito e fornire un senso di tranquillità. Precisamente. Che si tratti di escursioni, campeggio o semplicemente di ammirare il panorama, i parchi nazionali offrono infinite opportunità di esplorazione e contatto con la natura. Non potrei essere più d'accordo. Cerchiamo di continuare a esplorare altri parchi nazionali e a goderci la bellezza che hanno da offrire. Assolutamente, John. Abbracciamo l'avventura e creiamo ricordi in mezzo a questi paesaggi incredibili. Non vedo l'ora, Anna. Intraprendiamo altri viaggi indimenticabili e ammiriamo le meraviglie dei nostri parchi nazionali. Insieme scopriremo nuovi orizzonti e apprezzeremo gli incredibili paesaggi che la natura ci ha regalato. Anzi, Anna. Sfruttiamo al massimo primo nostri viaggi e apprezziamo la magnificenza dei nostri parchi nazionali. Lezione 13. Ospitalità e soggiorni confortevoli Ciao, Anna. Volevo parlare della nostra prossima visita di gruppo. Siete i benvenuti. Faremo in modo che il tuo gruppo trascorra un soggiorno confortevole con noi. Ciao, John. Lo apprezzo. Il comfort è essenziale per i nostri ospiti. Quali alloggi abbiamo a disposizione? Abbiamo una vasta gamma di opzioni, dalle camere accoglienti alle suite spaziose. Faremo in modo che tutti abbiano un posto confortevole in cui soggiornare. È bello sentirlo. È importante offrire ai nostri ospiti una varietà di scelte in base alle loro preferenze ed esigenze. Assolutamente. Vogliamo rendere il loro soggiorno il più piacevole possibile. Faremo in modo che le camere siano ben arredate e dotate dei servizi necessari. L'attenzione ai dettagli è fondamentale. Letti comodi, bagni puliti e un ambiente accogliente faranno la differenza nell'esperienza dei nostri ospiti. Sono completamente d'accordo. Forniremo anche servizi aggiuntivi come il servizio in camera e le pulizie per migliorare il loro comfort. Eccellente. È importante rispondere alle loro esigenze e garantire che le loro richieste vengano evase prontamente. Il nostro personale sarà formato per fornire un servizio eccezionale e assistere per qualsiasi richiesta o requisito speciale. È fantastico, John. Il personale cordiale e attento contribuisce a creare un'atmosfera calda e accogliente per i nostri ospiti. Assolutamente. Faremo in modo che i nostri ospiti si sentano apprezzati e ben accuditi durante tutto il loro soggiorno. È inoltre essenziale fornire informazioni sulle attrazioni locali, sui ristoranti e sulle opzioni di trasporto per migliorare la loro esperienza complessiva. Giusto. Vogliamo fare il possibile e fornire consigli che aiutino i nostri ospiti a sfruttare al meglio la loro visita. Quel tocco personale può fare una grande differenza, John. Vogliamo che i nostri ospiti abbiano la sensazione di ricevere consigli e suggerimenti da esperti. Precisamente. Soddisfacendo le loro preferenze individuali e andando ben oltre, creeremo un soggiorno memorabile e confortevole per i nostri ospiti. Non potrei essere più d'accordo, John. Il passaparola e le recensioni positive ci aiuteranno a costruirci una reputazione di ospitalità eccezionale. Assolutamente. Gli ospiti soddisfatti sono più propensi a tornare e a consigliarci ai loro amici e familiari. È una situazione vantaggiosa per tutti. Garantendo un soggiorno confortevole, non solo soddisfiamo i nostri ospiti, ma promuoviamo anche la fedeltà e attiriamo nuovi clienti. Questo è l'obiettivo, Anna. Vogliamo che ogni ospite se ne vada con un sorriso, sapendo che abbiamo fatto del nostro meglio per rendere il loro soggiorno confortevole e piacevole. Sono sicuro che con la nostra dedizione all'ospitalità e all'attenzione ai dettagli, i nostri ospiti vivranno un'esperienza meravigliosa. Condivido la tua fiducia, Anna. Lavoriamo insieme per creare un ambiente accogliente e offrire un soggiorno confortevole a tutti i nostri ospiti. Assolutamente, John. Il nostro impegno per l'ospitalità ci contraddistinguerà e renderà la nostra struttura la scelta preferita dai viaggiatori. Sono entusiasta dell'opportunità di fornire un servizio eccezionale e garantire ai nostri ospiti un soggiorno confortevole e memorabile. Lezione 14. Scelte di viaggio intelligenti e recensioni di lettura. Ciao, Anna. Ho sentito che stai programmando un viaggio. È una scelta saggia. Ciao, John. Sì, sono entusiasta di esplorare una nuova destinazione. È sempre bello cambiare scenario. Assolutamente. Nella scelta degli alloggi, consiglio di leggere le recensioni prima di prenotare. Non potrei essere più d'accordo, John. Le recensioni forniscono informazioni preziose sulle esperienze di altri viaggiatori. Lo fanno. È importante sapere cosa aspettarsi e prendere una decisione informata. La lettura delle recensioni ci aiuta a valutare la qualità del servizio, la pulizia e la soddisfazione generale dei clienti. È vero, Anna. Le recensioni positive indicano una struttura ben gestita che soddisfa le aspettative degli ospiti. D'altra parte, le recensioni negative possono sollevare bandiere rosse e spingerci a riconsiderare la nostra scelta. È essenziale cercare temi comuni nelle recensioni. Uno o due valori anomali potrebbero non essere rappresentativi dell'esperienza complessiva. Giusto. Dovremmo concentrarci sul consenso generale e prendere in considerazione più recensioni per avere un quadro più accurato. Inoltre, prestare attenzione alle recensioni recenti è fondamentale. Le cose possono cambiare nel tempo, quindi un feedback aggiornato è prezioso. Assolutamente. Le recensioni recenti ci danno un'idea dello stato attuale della struttura e dei suoi servizi. Un altro aspetto da considerare è la credibilità del revisore. Alcune piattaforme verificano le recensioni di ospiti autentici. Questo è un buon punto, John. Le recensioni verificate hanno più peso e possono essere più affidabili. È anche utile leggere le recensioni di viaggiatori con preferenze o esigenze simili alle nostre. Sì, se qualcuno menziona aspetti specifici che sono importanti per noi, come un'atmosfera tranquilla o una posizione comoda, vale la pena prenderne nota. Sicuramente. Leggendo le recensioni, possiamo fare scelte più sicure ed evitare spiacevoli sorprese. E se anche noi abbiamo avuto un'esperienza positiva, lasciare una recensione può aiutare gli altri nel loro processo decisionale. Esattamente. La condivisione delle nostre esperienze contribuisce alla comunità dei viaggiatori e aiuta gli altri viaggiatori a prendere decisioni informate. È un modo per ripagarlo ed esprimere gratitudine per le informazioni che abbiamo ottenuto dalle recensioni altrui. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Prendiamo l'abitudine di leggere le recensioni e di utilizzarle come risorsa preziosa nella pianificazione dei nostri viaggi. Assolutamente, John. È un modo intelligente per garantire un'esperienza di viaggio più piacevole e soddisfacente. Quindi, che si tratti di scegliere alloggi, ristoranti o attrazioni, assicuriamoci di leggere le recensioni e prendere decisioni informate. D'accordo, John. Insieme, esploreremo il mondo delle recensioni e faremo scelte sagge che miglioreranno le nostre avventure di viaggio. Non vedo l'ora, Anna. Intraprendiamo i nostri viaggi con fiducia, forti delle conoscenze che acquisiamo leggendo le recensioni. Lezione 15. Provare nuovi hobby per il relax e la connessione Ciao, Anna. Hai mai provato qualche nuovo hobby ultimamente? Ciao, John. Sì, da poco ho iniziato a dipingere. È un ottimo modo per rilassarmi e connettermi con il mio lato creativo. Sembra meraviglioso, Anna. Provare nuovi hobby può essere rinfrescante e benefico per il nostro benessere. Assolutamente. Ci permette di esplorare diversi interessi e scoprire talenti nascosti. Provare nuovi hobby offre anche l'opportunità di incontrare nuove persone che condividono interessi simili. È vero, John. Impegnarsi in attività di gruppo o entrare in club legati ai nostri hobby può portare a connessioni significative. È un'opportunità per espandere la nostra cerchia sociale e costruire amicizie con persone che la pensano allo stesso modo. Esattamente. Ho incontrato delle persone fantastiche durante i corsi di pittura, e abbiamo formato una comunità solidale. È fantastico, Anna. Avere una comunità solidale può migliorare la nostra esperienza con gli hobby e fornire la motivazione per continuare. Sicuramente sì, John. Possiamo condividere consigli, imparare gli uni dagli altri e celebrare i progressi degli altri. Provare nuovi hobby può anche essere un modo per alleviare lo stress e trovare un senso di appagamento. Assolutamente. Impegnarsi in attività che ci piacciono può essere terapeutico e aiutarci a rilassarci dalle pressioni della vita quotidiana. È un'occasione per disconnetterci dagli schermi e immergerci in qualcosa di tangibile e divertente. È così vero, John. È una pausa dal mondo digitale e un'opportunità per coinvolgere i nostri sensi. Provare nuovi hobby può anche dare un senso di realizzazione man mano che impariamo e miglioriamo nel tempo. Sì, vedere i nostri progressi e assistere allo sviluppo delle nostre capacità può aumentare la nostra fiducia e autostima. È un promemoria della nostra capacità di apprendere e crescere, anche in aree che forse non avevamo considerato prima. Assolutamente. Provare nuovi hobby apre le porte a nuove esperienze e ampia i nostri orizzonti. È un invito a uscire dalle nostre zone di comfort e ad affrontare nuove sfide. E chi lo sa, John, potremmo scoprire una passione che dura da una vita o sbloccare un talento nascosto. Questo è il bello di provare nuovi hobby, Anna. È un'avventura con infinite possibilità. Non potrei essere più d'accordo, John. Incoraggiamoci l'un l'altro a esplorare nuovi hobby, e a godere dei benefici che ne derivano. Assolutamente, Anna. Abbracciamo la gioia di provare cose nuove e creiamo opportunità di relax, connessione e crescita personale. Sono entusiasta del viaggio che mi aspetta, John. Intraprendiamoci nuovi hobby e godiamoci meravigliosi vantaggi che offrono. Anzi, Anna. Sfruttiamo al massimo il nostro tempo libero e scopriamo la magia di provare qualcosa di nuovo. Lezione 16. Previsioni del tempo e consigli per l'imballaggio Ciao, Anna. Sto programmando un viaggio la prossima settimana. Penso che dovremmo anche controllare le previsioni del tempo e preparare le valigie di conseguenza. Ciao, John. È un'idea intelligente. Conoscere le condizioni meteorologiche ci aiuterà a mettere in valigie i vestiti e gli oggetti essenziali giusti. Assolutamente. È importante essere preparati e vestirsi in modo adeguato al clima della destinazione. La verifica delle previsioni meteorologiche ci consente di anticipare eventuali cambiamenti o fluttuazioni dei modelli meteorologici. È vero, Anna. Ci aiuta a pianificare le attività e ad apportare le modifiche necessarie al nostro itinerario. Dovremmo considerare la temperatura media, le precipitazioni e le eventuali condizioni meteorologiche estreme che potrebbero verificarsi. Giusto. Se farà caldo e soleggiato, avremo bisogno di crema solare, cappelli e vestiti leggeri. E se le previsioni prevedono pioggia, dovremmo mettere in valigia ombrelli, giacchi antipioggia e scarpe impermeabili. È inoltre essenziale verificare se ci saranno forti venti o tempeste durante il nostro soggiorno. Sicuramente. In tal caso, potremmo dover mettere in valigia strati aggiuntivi o equipaggiamento protettivo. Controllare le previsioni del tempo ci aiuta a evitare imballaggi eccessivi o sottoimballaggi per il viaggio. È vero, John. Ci assicura di avere la giusta quantità di vestiti e accessori senza ingombri inutili. Dovremmo anche considerare il clima locale e gli eventuali modelli meteorologici specifici della destinazione. Questo è un buon punto. Alcuni luoghi hanno stagioni o microclimi distinti che richiedono preparazioni specifiche. È una buona idea ricercare le condizioni meteorologiche abituali durante il periodo della nostra visita. Conoscere i modelli meteorologici tipici ci aiuterà a prendere decisioni informate su cosa mettere in valigia. Inoltre, dovremmo prestare attenzione a qualsiasi attività o evento speciale che potrebbe richiedere un abbigliamento specifico. Assolutamente. Se partecipiamo a eventi formali, o siamo impegnati in avventure all'aria aperta, le nostre esigenze di imballaggio possono variare. È anche utile mettere in valigia capi di abbigliamento versatili che possono essere sovrapposti o mescolati e abbinati. In questo modo, possiamo adattarci alle mutevoli condizioni meteorologiche o ai cambiamenti imprevisti nei piani. Mettere in valigia oggetti essenziali come un ombrello da viaggio, una giacca leggera e scarpe comode è sempre una buona idea. Concordato. Questi articoli possono tornare utili indipendentemente dalle previsioni del tempo. Infine, dovremmo sempre lasciare un po' di spazio nel nostro bagaglio per souvenir o altri oggetti che potremmo acquistare durante il viaggio. Ottima osservazione, John. Meglio avere un po' di spazio in più che avere a che fare con una valigia troppo imbottita. Assolutamente, Anna. Controllando le previsioni del tempo e preparando le valigie di conseguenza, possiamo avere un viaggio più comodo e piacevole. Davvero, John. Si tratta solo di essere preparati e pronti ad accettare qualsiasi condizione meteorologica si presenti. Quindi assicuriamoci di controllare le previsioni, fare le valigie in modo intelligente e fare un viaggio fantastico con abbigliamento adeguato ed elementi essenziali. Assolutamente, John. Così facendo, saremo ben attrezzati per sfruttare al meglio la nostra esperienza di viaggio, con la pioggia o con il sole. Questo è lo spirito, Anna. Prepariamoci per il viaggio che ci aspetta e prendiamo decisioni sagge in base alle previsioni del tempo. Lezione 17. Esplorazione di splendide vedute del tramonto Ciao, Anna. Ho un suggerimento. Che ne dici di andare in riva al lago la sera? È tranquillo e offre viste mozzafiato. Ciao, John. Sembra un'idea fantastica. Guardare il tramonto e riva al lago deve essere un'esperienza mozzafiato. Assolutamente. L'atmosfera serena e i colori del cielo che si riflettono sull'acqua creano una scena davvero magica. Non potrei essere più d'accordo, John. È un modo perfetto per rilassarsi e apprezzare la bellezza della natura. La riva del lago offre anche un senso di tranquillità, lontano dal trambusto della città. È così vero. È una grande opportunità per sfuggire al rumore e immergerci in un ambiente tranquillo. Possiamo fare una piacevole passeggiata lungo la riva e trovare un posto comodo per goderci il panorama. E mentre il sole tramonta, le mutevoli tonalità di arancione, rosa e viola dipingono il cielo in un panorama affascinante. È il sogno di un fotografo. La riva del lago offre ampie opportunità per scattare splendide foto del tramonto. Infatti. La combinazione di acqua, cielo e paesaggio circostante crea un ambiente pittoresco. Possiamo anche portare una coperta e fare un piccolo picnic mentre guardiamo il tramonto. Sembra adorabile, John. Possiamo preparare degli snack e delle bevande da gustare mentre ammiriamo la bellezza che ci circonda. È un'occasione per rallentare, apprezzare i piaceri semplici e avere conversazioni significative. Assolutamente. La riva del lago offre uno sfondo sereno per connettersi e trascorrere del tempo di qualità insieme. Possiamo riflettere sulla giornata, condividere storie e creare ricordi duraturi in un'atmosfera tranquilla. E quando cala l'oscurità, potremmo persino intravedere le stelle che brillano sopra l'acqua scintillante. Sarebbe il finale perfetto per una serata incantevole, Anna. La riva del lago offre uno spettacolo di meraviglie della natura. Non vedo l'ora, John. Pianifichiamo la nostra visita in riva al lago e assistiamo insieme al tramonto mozzafiato. Sicuramente, Anna. È un'esperienza che riempirà i nostri cuori di stupore e ci ricorderà la bellezza che ci circonda. Non potrei essere più d'accordo, John. La natura ha un modo per affascinarci e ricordarci lo straordinario mondo in cui viviamo. Prendiamoci quindi un appuntamento per esplorare la riva del lago e immergerci nella tranquillità e nei panorami mozzafiato che offre. Sono emozionato, John. Abbracciamo la tranquillità e assistiamo insieme alla magia di un tramonto sul lago. Anzi, Anna. Creiamo un'esperienza memorabile e amiamo la bellezza che si apre davanti ai nostri occhi. Lezione 18. Risolvere i conflitti attraverso una comunicazione aperta. Ciao, Anna. Volevo parlare della risoluzione dei conflitti. Come gestisci i conflitti attraverso una comunicazione aperta? Ciao, John. La comunicazione aperta è fondamentale quando si tratta di risolvere i conflitti. Credo nell'affrontare il problema direttamente e onestamente. È un ottimo approccio, Anna. È importante esprimere i nostri pensieri e sentimenti in modo rispettoso e costruttivo. Assolutamente. Ascoltando attivamente i punti di vista degli altri, possiamo acquisire una migliore comprensione della situazione. L'ascolto attivo ci consente di entrare in empatia con l'altra persona e trovare un terreno comune per una risoluzione. È inoltre essenziale comunicare chiaramente le nostre esigenze e aspettative, assicurando che il nostro messaggio sia compreso. Una comunicazione chiara aiuta a prevenire malintesi e consente a entrambe le parti di lavorare verso una soluzione reciprocamente vantaggiosa. Quando sorgono conflitti, trovo utile concentrarsi sul problema in questione piuttosto che attaccare la persona coinvolta. Questa è una distinzione importante, Anna. Separare il problema dalla persona favorisce un dialogo più costruttivo. Credo anche nella ricerca di soluzioni vantaggiose per entrambe le parti in cui entrambe le parti ritengano che le proprie preoccupazioni siano state riconosciute e affrontate. È un'ottima mentalità, Anna. La collaborazione e il compromesso sono fondamentali per raggiungere risultati reciprocamente soddisfacenti. È fondamentale mantenere la calma e la calma durante le discussioni sui conflitti, anche quando le emozioni sono alte. Fare un passo indietro e affrontare la situazione con la testa calma ci permette di pensare con più chiarezza e trovare soluzioni produttive. Sono d'accordo, John. È importante gestire le nostre emozioni ed evitare di aggravare ulteriormente il conflitto. La risoluzione attiva dei problemi è un'altra strategia efficace. Insieme, possiamo fare brainstorming di idee ed esplorare diverse opzioni. Lavorando insieme, possiamo trovare soluzioni creative che soddisfino le esigenze di entrambe le parti coinvolte. È anche importante essere disposti a scusarsi e assumersi la responsabilità delle nostre azioni se abbiamo contribuito al conflitto. Riconoscere i nostri errori e mostrare la volontà di fare a me d'aiuto a ricostruire la fiducia e rafforzare le relazioni. Assolutamente, Anna. La risoluzione dei conflitti non significa solo trovare una soluzione, ma anche promuovere la comprensione e mantenere connessioni sane. Questo è un punto cruciale, John. La comunicazione aperta e la risoluzione dei conflitti contribuiscono a relazioni più sane e armoniose. Adottando questi principi, possiamo affrontare i conflitti con grazia e creare un ambiente in cui la voce di tutti sia ascoltata. Davvero, John? La comunicazione aperta pone le basi per un'efficace risoluzione dei conflitti e apre la strada alla crescita e alla comprensione. Quindi ricordiamoci di affrontare i conflitti con una mente aperta, un ascolto attivo e un genuino desiderio di risoluzione. Sono completamente d'accordo, John. Adottando una comunicazione aperta, possiamo trasformare i conflitti in opportunità di crescita e connessioni più solide. Ben detto, Anna. Mettiamo in pratica queste abilità e continuiamo a promuovere una comunicazione positiva e costruttiva nelle nostre interazioni. Assolutamente, John. Insieme, possiamo affrontare i conflitti con empatia, comprensione e impegno per una comunicazione aperta. Sono grata per la nostra capacità di impegnarci in discussioni aperte e oneste, Anna. Ci permette di crescere e rafforzare il nostro legame. Allo stesso modo, John. Il nostro impegno a risolvere i conflitti attraverso una comunicazione aperta è un esempio positivo anche per gli altri. Precisamente, Anna. Continuiamo a dare priorità alla comunicazione aperta e a creare un ambiente favorevole alla crescita e alla comprensione. Grazie a tutti.